mamma mia che bello oh guarda qui spettacolo spettacolo no vabbè ma questo dinosauro mica lo conoscevo quanto è bello questo libro no vabbè che fai arex sto leggendo questa encilospedia dei dinosauri vastatore mamma mia un'enciclopedia e dove l'hai trovata ce l'ha regalata un nostro fan al firmacopie di roma guarda qui è spettacolosissima fa vedere fa vedere oh mio dio hai visto le immagini sono bellissime cavolo è vero è straordinaria comunque voglio vedere tutti i regali che ci hanno fatto al firmacopie di bologna e roma sì però sono tantissimi vastatore pensi che riusciremo a mostrarli tutti in un video mi sa tanto di no vabbè vorrà dire che divideremo il video in due parti ok sono d'accordo vado a prendere i regali dai 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 non vedo l'ora e tada cavolo ma quanti sono hai visto vastatore sono tantissimi mamma mia non ci credo dai iniziamo a vederli uno ad uno sì allora qui abbiamo una bellissima lettera a forma di cuore oh e che c'è scritto c'è scritto cari arex vastatore siete i miei youtuber preferiti io la mamma e papà vi guardiamo sempre vi voglio bene francesco calderoni cinque anni grazie francesco anche noi ti vogliamo bene qui invece abbiamo francesco la sua mamma e il suo papà e sotto c'è vastatore arrabbiato e arex ma perché io sono arrabbiato tu sei sempre arrabbiato vastatore non è vero oggi sono felice poi abbiamo questo disegno di valerio oh guarda io sembro una patata verde tu sei una patata verde arex ehi non è vero poi abbiamo questo bellissimo dinosauro gonfiabile ma si è sgonfiato e purtroppo sì si è sgonfiato durante il viaggio di ritorno mannaggi e questo sono io mi sa proprio di sì arex che bello che bello poi abbiamo una lettera da parte di cristiano però è per il cameraman quindi cameraman sì sono qui vastatore dai dai leggi questa lettera di cristiano ok allora qui c'è scritto caro cameraman ti presento il mio dinosauro fantasma quindi non lo coloro poi ha scritto caro cameraman ti presento i miei dinosauri fantasma che vedi quassù seguo sempre i tuoi video con arex e vastatore tanti saluti da cristiano grazie mille cristiano ciao e questo è il dinosauro fantasma di cristiano e loro invece sono gli altri dinosauri fantasma oh che belli dai andiamo avanti poi abbiamo questo fumetto di alessio leggiamolo insieme la matematica è importante non è vero poi nella pagina successiva evidentemente cambiamo idea tutti e due ti ho detto vastatore che la matematica non è importante certo che è importante noi invece io ti dico di sì fine oh ma questo sono io in versione spider man e quello sono io in versione venom e tu stai per leccarmi la faccia no veramente sto per divorarti no stai per leccarmi la faccia sto per divorarti zitto vastatore non capisci niente e qui abbiamo un altro arex in versione spider man da parte di carmine e qui invece c'è un altro vastatore in versione venom mamma mia che belli poi qui abbiamo vastatore in versione goblin e arex in versione otto sctaviuscus poi abbiamo questo bellissimo piro raptor disegnato da nazareno no che spettacolo e ha scritto vi saluta anche il mio giganotosauro e arex dovresti iniziare ad assumere proteine e ha ragione ma io le assumisco le proteine ah sì le assumisci eh sì le assumisco mangio le lenticchie i fagioli le fave i piselli no tu devi mangiare la carne no la carne non la mangio sei sempre il solito comunque qui c'è scritto ciao arex e vastatore mi chiamo nazareno e ho 14 anni vi può sembrare strano alla mia età ma comunque siete i migliori dinosauri del mondo prima di continuare no non è affatto strano noi anche siamo grandi eppure i cartoni animati per bambini li guardiamo volentieri non si è mai troppo grandi o troppo piccoli per avere una passione non dimenticartelo concordo concordo questo dinosauro è il piro raptor è un teropode dromeosauride vissuto nel cretaceo superiore circa 70,6 milioni di anni fa in quello che oggi è il sud della francia post scrittum questo dinosauro comparirà in giurassic world il dominio e noi non vediamo l'ora un terospode dromeo drosmero 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 lascia stare arex lascia stare poi abbiamo questo bellissimo e ferocissimo dinosauro disegnato da riccardo mamma mia che paura fantastico fantastico questo disegno invece è da parte di eduardo e riccardo wow ma quanti dettagli hai visto cioè è troppo bello poi è coloratissimo poi abbiamo questo bellissimo disegno da parte di zeno e qui ha scritto siete i migliori grazie zeno e dietro abbiamo arex in versione spider-man e vastatore in versione venom wow poi abbiamo una serie di disegni da parte di manuel oh mamma ma mi ha fatto gli occhioni stradolci io invece ho i super denti poi qui abbiamo arex che canta in modo stupido cingomè cingomè cingomodue poi qui ha scritto grazie ad arex non abbastato ma come scusa perché non abbastatore vi voglio moltissimo bene a meno male siete bellissimi e divertenti i migliori no vabbè questo disegno è geniale abbiamo fimone che salva patomauro che salva veloci marco che salva vastatore che salva e questo chi è non lo so di certo non è non nasauro vabbè chiunque sia sta salvando me poi abbiamo un elenco di richieste da parte di manuel punto 1 cambiando i suoi colori trasformate veloci marco in carla cosa ma non se ne parla sì dai facciamolo no non voglio trasformare veloci marco in carla esiste soltanto una carla poi ha scritto fate draw my life parte 2 speciale 500.000 iscritti quest'idea non è male effettivamente potremmo farlo poi giocate a giurassic world alive anche questa potrebbe essere una cosa interessante poi fate la reazione a dinosaur's terrible lizard pilot non ho idea di cosa sia dobbiamo informarci pastatore poi fate il quarto libro sullo spazio e no in realtà il quarto libro no 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 devo starmi zitto devo starmi zitto vero non possiamo ancora parlarne magari non ci sarà un quarto libro come non ci sarà magari ci siamo stancati di fare libri e non ne faremo mai più ma dai bastato non dire queste cose chi lo sa chi lo sa poi altri canali youtube no dai questo basta e avanza video sulla guerra non lo so manuel perché io le guerre degli umani non le capisco per noi sono così assurde senza senso che non sapremmo nemmeno cosa dire e spero davvero di rimanere nell'ignoranza no vabbè ragazzi e qui abbiamo la mappa del parco dei dinosauri oddio non ci credo ragazzi non avevo mai visto il parco dei dinosauri dall'alto e ora grazie a manuel possiamo vederlo e c'è davvero tutto cioè guardate abbiamo carnopoli il marnobolto la foresta dei grandi sauri brachioland l'isola dei dinosauri ha scritto persino la densità ragazzi ma è geniale geniale è meraviglioso grazie manuel grazie davvero di cuore finalmente possiamo avere una visione più ampia del parco e qui abbiamo una possibile copertina per un libro ambientato nello spazio e ragazzi che dire l'idea è grandiosa ma poi guarda come siamo carini con le tute spaziali questo mostro poi è terrificante mamma mia è vero non vorrei mai trovarmi faccia a faccia con lui se dovesse capitare saremmo costretti a scriverci un libro qui invece abbiamo un gioco indovina chi è spinonno spino samuele pinosauro se avete fatto giusto la risposta sarà nel prossimo firma copie cosa ma chissà quando sarà vorrà dire che aspetteremo comunque secondo me è spino samuele si anche secondo me oddio no ok ragazzi non ci sono parole per descrivere questo disegno manuel sappi che siamo fieri di te vero grazie di cuore per la tua immensa sensibilità ragazzi siete fantastici si vi vogliamo davvero tanto bene siamo davvero fortunati ad avere voi dai arex andiamo avanti abbiamo ancora tantissimi disegni da vedere oh e qui abbiamo un bellissimo disegno di alessio lui ci scrive ciao arex e vastatore sono alessio ho letto l'enciclopedia vostra è bellissima e non vedo l'ora che me la firmiate ci vediamo al bookstore siete i miei youtuber preferiti per arex vastatore e il cameraman giulio ingrosso grazie grazie alessio poi abbiamo questo disegno di lorenzo ciao lorenzo ciao lorenzo grazie che figata che figata poi abbiamo questa super busta da parte di edoardo fiorese vediamo un po cosa c'è dentro qui c'è scritto per arex apriamo apriamo oh ma sono tutti i protagonisti del parco ma quanto siamo carini qui invece abbiamo un nuovo ibrido ed è la fusione tra uno spinosauro un plesiosauro uno stegosauro arex e vastatore e il nome del dinosauro è spisteare vabbè non riesco a pronunciarlo poi qui abbiamo un fumetto fighissimo una domanda per arex vediamo un po vediamo un po arex come si chiamano i tuoi genitori si chiamano brachiara e brachiolillo poi qui abbiamo un quadro di arex e vastatore per arex e vastatore cioè per noi edoardo che gioca a calcio con noi un altro fumetto fighissimo un'altra domanda sapete che vi seguo sempre grazie edoardo grazie poi abbiamo edoardo insieme a tutti i protagonisti del parco arex e vastatore insieme alla pimpa arex e vastatore in versione umana la discoteca di arex e vastatore addirittura arex e vastatore che vanno dall'indominus gli amici di arex ma perché c'è carla e io che ne so arex devi dirmi qualcosa io ma che dici vabbè arex il t-rex herbivoro ma quelli sono i miei genitori arex e vastatore che incontrano mosasauro oh no di nuovo no aiuto un altro ritratto di arex vastatore edoardo e ci chiede vi piace ma certo che ci piace ovvio è bellissimo e poi abbiamo la copertina dell'enciclopedia disegnata da lui ma che bella passiamo al prossimo regalo ma questa è carla oh no vastatore ti prego e sta dicendo ti amo vastatore vastatore calmati eh oh cavolo oh cavolo mi sento male mi sento male no dai vastatore la pressione poi qui c'è scritto scusa arex prego non c'è dichiaro no fammi finire nel senso scusa arex potete farlo vedere in un video grazie infatti lo stiamo facendo e qui abbiamo una lettera da parte di gabriele apriamola apriamola arex e vastatore vi voglio bene oh anche noi ti vogliamo bene ma guarda che bello questo disegno vero è bellissimo e qui abbiamo un gabriele inventore spittacolo spittacolo e qui abbiamo un bellissimo disegno arcopalenoso dipinto con gli acquerelli da alessandro ma wow e qui abbiamo un bellissimo disegno di stefano e lui ci scrive ciao arex vastatore sono stefano vi voglio bene anche noi stefano e qui abbiamo un altro disegno acquerelloso dipinto da lorenzo grazie lorenzo è bellissimo e qui abbiamo un brachiosauro disegnato da francesco e dietro ci sono io ma come sono bello e qui abbiamo un super dipinto realizzato da nicola poi abbiamo il simbolo di dino power è un ritratto meraviglioso di me ed arex e ci scrive ciao arex e vastatore sono michele denaroso e ho nove anni vi adoro siete i miei preferiti in assoluto ho guardato tutti i vostri video sono il vostro fan numero uno siete i migliori e ho letto tutti i vostri libri e sarei il bambino più felice del mondo se mi salutaste in un video ciao michele ciao michele grazie oh guarda vastatore c'è posta per te no vabbè dai apriamola apriamola allora da giacomo qui abbiamo un arex che incontra un mostro spaventoso e che ovviamente si fa la cacca addosso oh mamma mia oh sì arex mi dispiace tantissimo che i tuoi genitori sono morti sei il migliore oh grazie giacomo oh questa parte è per me bastatore non mi piaci perché non ti lavi i denti e perché vuoi fare che arex diventa carnivoro ma come non ti piaccio te lo meriti bastatore te lo dico io di lavarti i denti e qui abbiamo la fusione tra arex e bastatore ovvero varex e qui è scritto mi potete salutare certo ciao giacomo no io non ti saluto e dai bastatore non fare l'offeso oh qui abbiamo un gioco trova la pupù di arex allora vediamo dove 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 oh eccola 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 qui eh sì tu sei un esperto di cacchie poi ci sono io che esclamo questa popò è troppo dura arex si può sapere che cavolo hai mangiato non lo so bastatore però era dura davvero oh e qui abbiamo un cuore metà verde e metà viola allora vuole bene anche a me guarda alla tua metà ha scritto figo 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 alla mia metà invece ha scritto ha scritto e ha scritto buu buu oh giacomo perché mi odi tanto guarda poi tu hai un solo punto io invece ne ho infiniti sì ma non è giusto e qui abbiamo alcuni personaggi del secondo libro ovvero il tiny e il torvosauro poi abbiamo un arex in versione cane che carino e arex con il paracadute poi ha scritto ti adoro arex grazie giacomo e qui abbiamo una lettera da parte di giulio diego e gabri da aprire in un video dai dai apriamola no vabbè bellissimo questo è da parte di diego e giulio e abbiamo fimone veloci marco arex me e nonna sauro e io dico bene agente arex dobbiamo entrare in servizio cosa dobbiamo buttarci dal precipizio dai figlioli non litigate e ha scritto scusa pato mauro se non ti abbiamo disegnato tranquilli non c'è problema lui capirà e qui abbiamo un arex sempre da parte di diego e giulio oh grazie diego e giulio e qui abbiamo un bellissimo fumetto da parte di alessandro mamma mia che bello dai leggiamolo leggiamolo 3 2 1 aspetta bastatore non sono pronto faccio la cacca come via ciao a tutti e benvenuti in un nuovo amboschi o guarda qui ti ho appena tirato un colpo in testa ma dai inizi video senza di me ho da fare ti sembra normale per caso vabbè apriamo la mega busta finalmente guarda qui ha disegnato la mega busta di spider-man e bastatore un'ora dopo continuiamo con l'amboschi ok non credo le due stupi poi qui abbiamo tutti i giocattoli trovati nella busta aia oddio per oggi è tutto ciao ciao fine poi abbiamo una lettera da parte di gian domenico arex e bastatore siete i migliori youtuber della storia e per questo siete i miei preferiti siete favolosi grazie gian domenico grazie poi abbiamo questo fantastico ibrido disegnato da cristiano no vabbè che bello è stupendo ragazzi cioè è un misto tra un brachiosauro uno spinosauro un dimetrodonte e un triceratopo e un tirannosauro è un tirannosauro e sopra comunque c'è scritto ciao a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo video di dinosauri detective wow e qui abbiamo un'altra lettera per arex andro e bastatore poi ha scritto per bastatore per farlo arrabbiare o no wow credo che sia l'unica a ricordare che il mio nome intero è arex andro dai vediamo cosa c'è dentro da alessia miani anni 7 per arex andro bastatore ed il cameraman quella è la mia cacca ma se l'ho fatta io prima e lei invece ci dice non è normale litigare per questo effettivamente ha ragione giusto beh ragazzi direi che per oggi possiamo fermarci qui ci sono ancora tantissimi disegni da vedere mamma mia e già vabbè ma li vedremo la prossima volta va bene perciò ci vediamo al prossimo video ragazzi ciao a tutti ciao belli